Bene, questa sera facciamo un passo avanti un pochettino in quel tema che abbiamo sviluppato un pochettino ieri circa il nome di Dio. Abbiamo visto che nel rovetto ardente Mosè riceve la manifestazione, riceve la rivelazione del nome di Dio, quel famoso tetragramma, le quattro lettere che ci sono giunte nella scrittura del libro dell'Esodo e oggi andiamo un pochettino avanti rispetto proprio alla specifica di quel nome di Dio. Io sono, io sono, io sono colui che fa essere, io sono colui che dall'essere per esempio può essere una lettura in qualche modo utile, ma vediamo che questo io sono ha qualche cosa di importante per ciascuno di noi. Siamo ai numeri 210-213 e viene detto Dio è misericordioso, Dio è un Dio, di misericordia. Dio è un Dio di pietà e lo vediamo quando? Dopo il peccato che il popolo compie, no? Mosè sull'Oreb sta ricevendo le tavole della legge e quando scende troverà che cosa? Troverà un popolo che si è fatto il vitello d'oro, troverà un popolo che è ritornato in qualche modo alle idolatrie antiche e che cosa farà Mosè? Mosè dovrà intercedere in favore del suo popolo, ecco perché Dio perdoni, storni dal popolo la vendetta, storni dal popolo l'ira, conceda al popolo il suo perdono. Ecco Dio ascolta questa intercessione, ascolta questa preghiera da parte di Mosè e allora in questo possiamo dire Dio manifesta qualche cosa di fondamentale, di importantissimo di sé, manifesta il suo amore e che tipo di amore è. Ecco a Mosè che chiede di vedere la gloria di Dio, Dio risponderà farò passare davanti a te tutto il mio splendore, tutto il mio splendore e lì proclamerò il mio nome, vedrai con pienezza sempre maggiore, gradualmente sempre più intensa veramente la mia identità e allora Dio passa davanti a Mosè e proclamerà il Signore, il Signore Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà. Bellissimo, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà. Mosè riconosce allora veramente ancora di più, sempre meglio, qual è l'identità di Dio? Dio è un Dio che perdona. Guardate non è non è qualche cosa di scontato, per noi forse oggi è scontato, lo sentiamo, Dio è perdono, Dio è buono, Dio è misericordioso eccetera, ma qui stiamo parlando di un uomo vissuto migliaia di anni fa in cui veramente la percezione di Dio era a volte un Dio violento, di un Dio vendicativo, di un Dio, la percezione delle divinità circostanti era proprio questa, un Dio feroce, le divinità erano feroci, chiedevano sacrifici umani, chiedevano veramente il sangue agli uomini e questo invece che è? Quello che si manifesterà a Mosè è un Dio che perdona, un Dio benevolo nei confronti dell'uomo e allora quel nome di Dio io sono, egli è anche, esprime qualche cosa, esprime una fedeltà di Dio malgrado l'infedeltà degli uomini ma soprattutto questo significa, esprime la sua misericordia. Allora in Gesù Cristo questa fedeltà è misericordia, lo vediamo, lui è la manifestazione sempre meglio, sempre più chiaramente in questa gradualità in crescita, attraverso la quale Dio sempre di più si comunica precisamente agli uomini e in Gesù Cristo lo vedremo proprio con pienezza, Dio è fedeltà, Dio è misericordia, Gesù Cristo è la rivelazione di questa fedeltà e di questa misericordia. Possiamo andare un pochettino avanti, siamo al numero 212, solo Dio è, che cosa significa? Che Dio è unico, che Dio è unico, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo, egli non ha pari, egli non ha antagonisti, non ci sono altri dei, Dio è trascendente rispetto al mondo, alla storia e altre, a Ulse, Estraneo, al creato è oltre, è trascendente e lui non c'è variazione, non c'è cambiamento, Dio è colui che è da sempre ed è per sempre e Dio per questa sua perduranza, diciamo insieme nella fedeltà a se stesso, resterà fedele non solo a se stesso, ma anche alle promesse che ha fatto agli uomini, Dio è lo stesso, ieri, oggi e sempre, l'abbiamo sentito definire. Il numero 213 ci dice ancora, io sono colui che sono, che cosa significa? Ancora qui, un passettino avanti, Dio è la pienezza dell'essere, senza origine e senza fine, io possiedo l'essere, nessuno mi dà l'essere, l'uomo lo riceve l'essere, lo abbiamo ricevuto ai nostri genitori, l'abbiamo ricevuto da Dio se vogliamo, ecco Dio non riceve il suo essere, lui è essere sussistente, anzi lui è colui che fa essere, è colui che dona l'essere, allora per tutti quanti noi, cosa fondamentale riconoscere veramente in Dio questa benevolenza nei confronti degli uomini e ricevere, accogliere da lui e il suo figlio Gesù Cristo ce l'ha manifestato, il suo essere, lui ci è padre, è un Dio che ci genera, è un Dio che produce in noi vita e vita eterna, la sua vita eterna la comunica agli uomini. Ciao a tutti.